radiomagica presenta pimpa magica pimpa e l'orsetto in letargo vado a trovare l'orsetto ma l'orsetto sarà in letargo letargo vuol dire che dorme sì per tutto l'inverno corro a vedere se dorme ciao orsetto stai dormendo sì bugia perché? mi hai risposto vuoi giocare un po'? mmm dov'è la mia mamma? la tua mamma sta dormendo bene bene allora posso alzarmi a cosa giochiamo? alla lotta coi cuscini bam boom tua mamma vuole che tu dorma tutto l'inverno sì ma non ci riesco come mai? sì dopo tre giorni non sogno più invece tua mamma dorme tutto l'inverno oh sì dorme come un ghiro mmm sento un profumino di torta di mele la torta è ancora calda chissà chi l'ha fatta chissà chi l'ha fatta il cielo non mi va non non ma Grazie per la visione!